la protesta di oggi ma diciamo che è una protesta pacifica ma deve essere diciamo abbastanza sentita perché siamo presenti come associazione cuochi di Ravenna e Cervia per far sentire appunto la nostra voce perché questa situazione si sta protraendo troppo e adesso diciamo che stiamo andando a ridosso della stagione e quindi vogliamo far valere i nostri diritti insomma si riapra in sicurezza perché è stato comunque il protocollo rispettato sempre dai ristoranti e dall'attività quindi noi vogliamo riaprire in sicurezza e questa manifestazione di oggi è il segno che comunque tutti uniti con sinergia vogliamo farci sentire tutto qui